Ciao, sono la monaca di Monza. Ma che è sto cinguettino? Mi hanno delegato a presentare questa promo del progetto teatrale del liceo classico di Nuova Siri. Per voi, del liceo Cagnazzi, i promessi sposi. Io sono Renzo e in questo momento Lucia mi ha abbandonato. Io, io sono, io sono Azz, 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 Azz e Cacarbugli. Il povero curato non c'entra niente. Non c'entra niente. Io sono la mamma di quella poveretta. Io sono la madre di Cecilia. Il mio nome non ve lo dirò mai. Il nome di Dio. Speriamo si risolva tutto. Faccio partire la palla. Io sono la vecchietta che accoglie Lucia dall'innominato e all'occorrenza la voce fuori campo. Ma Perpetua! Don Rodrigo! Manzoni! Ma chi c'è l'Italia? Non ci sono! Questa sarà la sorpresa.